Gara opaca al Benelli di Pesaro per Lavezzano che subisce una rotonda sconfitta al termine di 90 minuti che hanno regalato sei reti e tante emozioni. Per i marsicani che erano attesi ad una conferma dopo il successo sul Matelica sono risultati fatali i primi 11 minuti di gara in cui dopo il fulminio vantaggio di Bisegna i biancoverdi hanno subito l'1-2 dei locali con Giorgio e Falomi. Per la difesa biancoverde è stato quello marchigiano, davvero un pomeriggio da dimenticare. Inizio di partita a dir poco pirotecnico. Passa infatti appena un minuto e l'ex pescarese Falomi manca di pochissimo il bersaglio con un tiro che finisce a lato. La risposta ospite è velenosa visto che al secondo da un errore sulla battuta di un calcio d'angolo della vis parte il contropiede di Di Curzio che fa 60 metri, palla al piede e poi serve a centroarea il liberissimo Bisegna che mette alle spalle di Molinaro rompendo così un digiuno personale che durava da tre mesi. Ma la gioia del vantaggio marsicano dura appena 60 secondi con il capovolgimento di fronte marchigiano che porta la rete di Giorno con la complicità di Davino che si fa passare il pallone sotto le gambe. Ma anche l'ex pescarese Falomi naguato e così all'undicesimo di testa su punizione battuta da Rossi mette alle spalle dell'estremo biancoverde per il gol del sorpasso. Per la squadra di Lucarelli è un brutto colpo dopo l'illusorio vantaggio. La gara non regala pause e al ventesimo tocca a Costantino entrare in area e non riuscire poi a centrare lo specchio della porta da posizione defilata. Al ventiquattresimo l'avanti pesarese ci riprova fallendo una ghiottissima occasione davanti a Davino con il pallone che finisce ancora fuori. La difesa marsicana soffre maledettamente la velocità della coppia Falomi-Costantino che crea spesso e volentieri problemi nella metà campo abruzzese. L'Avezzano si rivede al trentaduesimo con De Sanctis che prima del limite dell'area locale fa tutto bene tirando poi debolmente fra le braccia di Molinaro ma è Costantino a continuare a sprecare incredibilmente mandando ancora il pallone al lato ma in campo c'è un giocatore sprecato per questa categoria come Falomi che propizia il Tris al trentacinquesimo con un tiro respinto dalla difesa marsicana prima del tapin vincente ancora di giorno con un tiro potente e preciso. All'epo ha l'occasione poi di riaprire la gara al trentanovesimo ma il suo tiro dall'interno dell'area pesarese viene murato da un difensore della Vis e così arriva il finale di tempo con un tiro poco alto di Procacci che alza la mira prima del quarantaseiesimo quando viene annullato il gol a Di Cursio per fuorigioco. La dipresa si apre all'ottavo con una buona opportunità per Bisegna che conclude al volo dall'interno dell'area di rigore trovando la respinta in angolo di Molinaro. Lucarelli manda in campo Pollino e Puglia al posto di More Sassarini ma al dodicesimo Costantino si riscatta degli errori precedenti segnando la rete delle 4 a 1. Gara che sembra chiusa ma che trova una nuova emozione al ventesimo quando arriva il gol di Di Cursio a riaccendere le speranze per la squadra di mister Lucarelli. L'Avezzano ci crede avanza il baricentro e al trentaduesimo c'è una buona occasione con un tiro dalla distanza di Bisegna che termina di pochissimo a lato. I minuti trascorrono con la vis che inizia ad accarezzare la conquista dei tre punti e che controlla le sfuriate bianco-verdi. L'Avezzano rischia ancora al trentottesimo quando Fabri cade in area davanti a Davino al momento della conclusione, poi solo l'espulsione di Fabri al novantaquattresimo per un fallo subitai prima della festa bianco-rossa per una vittoria che vale quasi la salvezza. Vantaggio arrivato troppo presto e poi quei dieci minuti in cui avete subito due reti possiamo dire che è stato questo il momento cruciale della gara? Ma noi ogni volta che facciamo una cosa positiva poi subito ci specchiamo e poi subito lo specchio si rompe e quindi oggi è successa la stessa cosa, siamo andati in vantaggio, domenica scorsa abbiamo vinto una grande partita e oggi non abbiamo ripetuto la stessa prestazione almeno come atteggiamento e quindi i motivi della sconfitta sono questi per me oltre che gli episodi individuali. Salvezza che però per chiudere resta ampiamente alla portata dell'Avezzano. Sì ma noi siccome che siamo una squadra giovane dobbiamo subito cercare di salvarci e di tirarci fuori, oggi era un passo importante se avessimo vinto e invece siamo lì come domenica scorsa a giocarci adesso una partita in casa molto molto importante anche se con Giulianova, non so che ho fatto ma credo che sia sempre una partita molto complicata. La squadra ha avuto un'ottima reazione, abbiamo messo in difficoltà con una grande pressione l'Avezzano, stiamo attraversando un buon momento era importante dare seguito e l'abbiamo dato seguito con una buona prestazione con una vittoria importante che ci permette di guadagnare qualche punto dalla sesta ultima posizione, però il percorso è ancora lungo e lo sappiamo e adesso c'è questa sosta, ne approfittiamo per scaricare un po' con l'attenzione, recuperare un po' di energie fisiche e mentali recuperare qualche giocatore tipo Brighi che è ancora infortunato da un mese e mezzo e poi ci proveremo per il rush finale.